A Matteo Pellegrini, al libro di canto del maestro Davide Ciprona, che è appassionato della musica, ma da quest'anno, grazie ai suggerimenti del maestro, sta ampliando le sue conoscenze e tecniche vocali con altri generi musicali. Uno sul pub, il pop americano, ma stasera ci canterà un spagaggiatamente, il regalo più grande, a voi Matteo Pellegrini. A Matteo Pellegrini, al libro di canto del maestro Davide Ciprona, Pellegrini, al Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.